Amici della Capitana Immobiliare, benvenuti in questo nuovo video, sono Carolina. Oggi vi propongo in locazione un bilocale di 50 metri quadri, sito al quinto e ultimo piano di questa palazzina degli anni 30, in zona Città Studi e precisamente in via Portora. Prego, ve lo mostro. È presente l'ascensore, saliamo. Benvenuti, prego. L'ingresso è diretto sulla zona giorno. Qui invece è presente l'angolo cattura con il forno, il piano gas e un microonde. Vi porto al balcone con la faccia interna e molto silenzioso. Prego. Adesso vi porto nella zona notte. È presente un letto alla francese a cassetto, molto comodo. Anche qui la faccio interno, quindi la camera rimane molto silenziosa. Gli infissi, doppio vetro. Sono presenti in entrambe le stanze, gli spietti dell'aria condizionata. Ed infine il bagno. Un box doccia e all'interno una comoda. Nell'appartamento è presente il videocitofono e l'impianto di allarme. Il canone di locazione richiesto è pari a 1500 euro, spese condominiali incluse, utenze, quindi luce e gas, wifi e la linea pista del telefono. Inoltre è presente un box di pertinenza. Per informazioni e appuntamenti potete contattarci al numero 351 91 841, eventualmente via mail. www.ufficiochiozzolacapitanimmobiliare.it